Fabio Sulpò ha preso la mano eh è lì che rigida guardala prego abbiamo un po' di verde eh no ma qual è lì? eeeeeeeeeeeeeee sei un po' spaccato però eh sei un po' colpiatone grande fu controcorrente anche per quello secondo me raga un giretto ve lo potete fare divertente cazzo di fu eccolo qua lavato nel po' purtroppo c'è stato un problema all'atterraggio e sono scivolato e questo è il risultato però mi son divertito guarda lì guarda com'è pieno adesso mettiti lì al sole e ti asciughi